Questa sera parlo di una bellissima storia di uno sportivo, Anthony Joshua, campione di pugilato, 37 anni, londinese, che pensate in un solo match ha guadagnato 18 milioni di euro. Bellissimo perché è cambiata la sua vita ma lui non è cambiato come persona, vive nella stessa casa con sua mamma, sostanzialmente conduce una vita abbastanza normale, non è per nulla stato cambiato dal successo. Riesce l'imprenditore a rimanere con i piedi per terra nel momento in cui ha un'impennata del suo livello economico? È una bella domanda, la maggior parte degli imprenditori non riesce, nel senso che si fa prendere la mano, si fa un attimino allargare e perde quella morigiratezza che invece gli era tipica nei momenti di difficoltà o quando è nato o quando si è realizzato. Invece bisognerebbe conservare sempre e sempre quel tipo di atteggiamento perché l'atteggiamento delle persone con i piedi per terra è sempre un atteggiamento vincente. Da dove è che parte questo atteggiamento? Ha un equilibrio comunque interno, da una buona base di spiritualità, da una buona base di consapevolezza che il business oggi c'è e domani non si sa, voglio dire, insomma, bisogna essere ben piantati per terra. E cosa bisogna fare? Bisogna lavorare sui stessi, bisogna lavorare sulle proprie parti mentali per essere strutturati e per capire che il nostro valore non è solo la ricchezza che riusciamo a creare ma è anche la persona migliore che riusciamo a diventare, anzi è soprattutto la persona migliore che riusciamo a diventare e che comunque noi siamo una persona e la forma giuridica della nostra azienda è un'altra cosa e quindi la troppa identificazione col successo in questo caso non va bene. Quindi Anthony Joshua andate a vedere e soprattutto andate a vedere anche l'ultimo suo match interessante, accattivante, mi sono emozionato pur non essendo un grande tifoso di pugilato perché al contrario di Tyson e al contrario di tanti altri sportivi che hanno purtroppo perso la testa, questo la testa l'ha conservata e l'ha conservata bene a 37 anni. Bravo Joshua, buona serata e vi raccomando visitate il mio blog mircogasparotto.it e il gascaffè che parla di queste storie meravigliose di persone che ci possono insegnare molte cose.